50 anni di donazioni, l'Avis di Castiglion Fiorentino ha tagliato il bel traguardo domenica 15 maggio, giornata dedicata al donatore. La festa si è articolata con una messa nella chiesa di San Francesco, a seguire il corteo nel paese fino ai giardini dove è stata deposta una corona dall'oro alla presenza delle autorità, guidate dal sindaco Mario Agnelli. Il pranzo successivo è servito non solo a stare insieme ma anche a premiare tutti coloro che hanno fatto un gran numero di donazioni. Ad oggi si contano oltre mille soci anche se i donatori effettivi sono di meno, ha spiegato il presidente Gabriele Giommetti che ha aggiunto che nel 2021 rispetto all'anno precedente l'incremento è stato pari al 10% e le donazioni sono arrivate ad 850. Un dato di grande rilievo soprattutto in un momento in cui il sangue è carente. Donare sangue è un grande atto di solidarietà e di amore verso il prossimo e rappresenta un patrimonio umano e sociale per tutta la collettività, ha proseguito il presidente. Ringrazio tutti i donatori perché con il loro gesto garantiscano cure e terapie a malati cronici e nonne.